Tutti assolti per il crollo della diga di Montedoglio nella Valtiberina Aretina. Era il 29 gennaio del 2010 quando di notte crollò un concio della diga e fece temere l'allagamento dell'intera valle. Grande fu la preoccupazione per decine di persone che vivevano nella zona. Da allora partì un lungo procedimento giudiziario che ha impegnato la Procura della Repubblica per oltre 11 anni. Oggi è stata confermata la soluzione per l'ingegnere Stefano Cola, tecnico di Ente Acque Umbre Toscana e per l'architetto Diego Zurli. La Procura Generale aveva chiesto la loro condanna in aula, l'avvocato Luca Fanfani a difesa dell'ente e Piero Melani Graverini in difesa degli imputati. La decisione è quella della Corte d'Appello, terza sezione penale. La discussione finale è stata soprattutto sulla relazione stilata dal perito nominato dal Tribunale, Sossio del Prete. Perizia, il cui esito, ha confermato la fondatezza delle ragioni poste alla base della soluzione degli imputati, pronunciata dal giudice Giulia Soldini in primo grado ad Arezzo tre anni fa. Secondo quanto emerso, la perizia avrebbe individuato tra le cause del crollo la cattiva esecuzione del giunto di base della parete. Secondo il Tribunale di Arezzo, le responsabilità sarebbero state allora da attribuire a chi progettò e costruì l'invaso, persone che adesso non sono più in vita, interpretazione adesso confermata anche dalla Corte d'Appello.